Asolo al Via il Festival del Viaggiatore, giunto alla quinta edizione e in programma sino a domenica il primo evento culturale interamente dedicato al viaggio fisico-geografico e dell'anima. Ospitato in uno dei borghi più belli d'Italia, la città dai cento orizzonti, come la definì Giosuè Carducci, il festival s'addentra quest'anno nel mare delle passioni, con protagonisti, personaggi famosi dello spettacolo, della cultura e della musica. Saranno aperti per l'occasione luoghi privati e spesso sconosciuti le dimore storiche appartenute a Eleonora Duse, Freya Stark, Robert Browning, Antonio Canova e Andrea Palladio.